Ciao, sono Zani di Turbola.it. Oggi registro questo video perché ho davvero bisogno del tuo aiuto. Nel senso che vorrei iniziare, oppure meglio, riprendere la preparazione di video di approfondimento sulle migliori criptovalute in circolazione. Il problema è che ce ne sono talmente tante che non so da quale partire. Oppure, in realtà, io saprei benissimo da quali partire, ovvero quelle che ho consigliato come migliori criptovalute del 2018 e 2019 nel mio video articolo precedente. In particolare Omise Go, Navcoin, ARK, NIO, mi piace moltissimo, IOTA, Litecoin, eccetera, eccetera. Però, d'altra parte, ci sono anche le criptovalute speculative che mi piacciono molto, come Wabi, Substratum, NALS, Loopring. Il problema, come puoi capire, è che non so proprio da dove iniziare. Chiedo quindi la collaborazione di tutta la community di Turbola.it qui su YouTube. Fatemi sapere nei commenti qua sotto quali criptovalute vi piacerebbe che io approfondissi con dei piccoli video di 4-5 minuti. Oppure, ancora meglio, fammi sapere se preferisci e ti sei più interessato a brevi video di approfondimento di 4-5 minuti. Oppure, se sei interessato, che entri un pochino più nel dettaglio e quindi in pacchetti dei video un pochino più corposi da 7-10 oppure 15 minuti. Fammi un pochino sapere che cosa ti interessa. Quali criptovalute, quale formato ti piace di più. Le monete, i progetti che otterranno più voti e più domande nei commenti qua sotto verranno selezionati per primi. E voi pian pianino, da lì in poi, continuerò con lo sviluppo. Ti ringrazio in anticipo per la collaborazione. Ci vediamo fra qualche giorno. Ciao!